Detto con la più grande sincerità del mondo, detto con la sincerità più grande che io abbia mai utilizzato, ma mai nella mia vita sono stato così sincero, oggi il Napoli ha dimostrato il perché. Nell'anno in cui, a mio avviso, Lionel Messi vince il mondiale e il Napoli vincerà il tricolore. Mai come quest'anno, ragazzi, mai come quest'anno. Io credevo che il Napoli in qualche modo potesse anche provare a portare a casa i tre punti, sebbene sulla carta per me, tra le due, la favorita poteva essere la Juventus. Perché? Perché il percorso di crescita della Juve dava dei segnali positivi, perché la Juventus arrivava in fiducia, perché i bianconeri non prendevano gol da otto partite. Quando i bianconeri, quando la Juve non prende gol da otto partite, io penso, ma vuoi vedere? E penso, lo penso sinceramente, lo penso sinceramente, ma vuoi vedere che stasera la Juventus fa lo scherzo al Napoli, si chiude in difesa e riesce magari con l'unico tiro in porta, magari con un autogol a portare a casa i tre punti? No, regà, no, regà, il Napoli oggi ha distrutto, ha distrutto nel vero senso della parola la Juventus, l'ha arata, l'ha spaccata. Io non ci posso credere, io non ci posso credere, io non posso crederci. Oggi è stata un'umiliazione, in piena regola, come non ne ricordavo, come non ne ricordavo. Allora, un lungo applauso, un lunghissimo applauso ai giocatori partenopei, perché io, regà, vi dico la verità. Allora, di squadre devastanti, sinceramente me ne ricordo, di squadre devastanti, sinceramente me ne ricordo, di squadre devastanti, guardate la Juventus dei 102 punti. Cioè, era una Juventus comunque una signora squadra, una squadra fortissima. E il Napoli, paradossalmente, sta più o meno seguendo quella linea lì, ora non sarebbero 102, di me ne sta facendo circa 99 o 100, comunque giù di lì. Però lo dicevo, dicevo, se il Napoli addirittura riesce a battere la Juve, per me mette in tasca lo scudetto. Perché è vero che ha perso con l'Inter, ma poi subito ha ripreso il cammino, ha vinto con la Samp e poi, se addirittura batte la Juventus, insomma, che è seconda in classifica, si mette in tasca lo scudetto. Oggi il Napoli non batte la Juventus, oggi il Napoli distrugge la Juventus, oggi il Napoli umilia la Juventus, oggi il Napoli dice alla Juventus, guarda, era meglio che non ti presentavi. Se non ti fossi presentato sarebbe stato, no, una, due, dieci volte meglio, hai fatto una cazzata. Era meglio che non venivi proprio, era meglio proprio che il viaggio tu da Torino a Napoli non lo facevi. Ed è un'umiliazione che io penso che rimarrà nella storia quando tra dieci anni, quindici anni, vent'anni, parleremo poi dei vari Napoli-Juventus, Juventus-Napoli, di come si parla ancora, del gol di Zaza, di quello di Coulibaly, dell'autogol di Coulibaly, di tutte le situazioni che poi hanno costretto in qualche modo Napoli e Juve ad essere padrone e schiave del risultato passato. Ecco, oggi, oggi, nella partita di stasera abbiamo, regà, un esempio di come questo risultato entri nella storia, ma nella storia ci entra non dalla porta sul retro, non de fianco, centralmente, 5 a 1. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Io non ho parole, io non ho parole, io non ho parole, io non ho parole, ma allora andiamo un attimo per gradi. Allora, ragazzi, tutti iscrivetevi al canale in questo momento se non l'avete già fatto, ma poi voglio parlare della partita in sé, voglio parlare della clamorosità della partita in sé, perché il Napoli già aveva fatto capire subito come voleva mettere le cose e si porta avanti bloccando il record lunghissimo di imbattibilità di Szczesny che andava avanti da più di 8 partite dal Milan. Ragazzi, Szczesny dal Milan non prendeva gol, dal Milan ha fatto 8 partite senza subire gol, la Juventus ha vinto tutte quelle 8 partite, era una Juventus che ha fatto 24 punti, il massimo, nelle ultime 8 partite. Le ha vinte tutte senza possibilità di errore. Arriva a giocare contro il Napoli, subito palla dentro, difesa forse un po' leggerina su cui in quel caso lì la palla che va verso dietro, Kvaraskelia che io regà non ho parò, io non riesco a capire come cazzo è possibile che Kvaraskelia sia rimasto per così tanto tempo, così tanto tempo, non è vecchio, è giovanissimo, però nel senso, com'è possibile che nonostante il problema del calcio russo e tutto quanto lui sia finito in Georgia e nessuno l'abbia preso prima? Cioè, e io faccio i grandi complimenti al Napoli, mi resta se ne accorto solo loro, cioè ma un giocatore clamoroso in tutto, in tutto, e tutto quello che fa è clamoroso Kvaraskelia, in tutto, e nell'assist, nella visione di gioco, e nei cross a giro al contrario, d'esterno, nei tiri che è devastante, qui fa una rovesciola dal nulla, dal nulla si cordila, fa una rovesciola a Szczesny, fa un miracolo, su ribattuta ci va Osman, lì la difesa dorme, vuoi chiudere su Osman, come fai a lasciarlo da solo? e il nigeriano fa il gol del 1-0, la Juventus, in qualche modo, rimane in gioco anche dopo il 2-0, perché poi Osman ridà un pallone a Kvaraskelia e Kvaraskelia e il georgiano, in quel caso, fa il gol del 2-0, ma la Juventus, comunque, resta in gioco, ha le sue opportunità, becca una traversa su un errore difensivo, se non sbaglio, di Rachmani, e poi, dopo il 2-0, segna effettivamente il gol del 2-1, che gli permette di riaprire la partita con Angel Di Maria. È un gol importante, è un gol pesante, è un gol che lì per lì, io ho pensato potesse davvero essere influente, in quella che poi sarebbe stata la partita della Juventus, ci ho creduto veramente, eppure, ragazzi, questo non era il copione che oggi si doveva leggere, questo non era il copione di oggi, non era questo il copione di oggi, perché poi il Napoli è andato in scioltezza, perché poi ha risegnato Ozyman, perché poi ha risegnato Kvaraskelia, perché poi addirittura ha fatto il 5-1 Elmas, perché il Napoli oggi ha giocato in discesa con una marea, ma una marea di errori della difesa della Juventus che non si teneva in piedi, ma non si teneva in piedi per dire la verità, cioè veramente, ragazzi, errori su errori su errori su errori, me ne ricordo uno di Bremer, ma gigantesco, ma abnorme, e vi posso dire una cosa, al di là degli errori, al di là del fatto che il Napoli abbia dimostrato di essere superiore, e questo è importante non solo sotto il punto di vista tecnico, non solo sotto il punto di vista tattico, perché oggi Spalletti ha preso Allegri e se l'ha messo in tasca, non solo sotto il punto di vista fisico, perché il Napoli sembra dieci volte più avanti nella preparazione della Juventus, ma sotto il punto di vista mentale, mentale, oggi il Napoli ha dato questa dimostrazione qui, che c'è anche con la testa, il Napoli dà la dimostrazione che c'è anche con la testa, che gli errori, perché la partita la sentono più loro, li fa la Juventus, non li fa il Napoli gli errori, li fa la Juventus, e anche magari qualche volta sull'attraverso dell'errore difensivo del Napoli, qualche errorino, qualche cazzatina è stata fatta, ma gli errori grossi, gli errori quelli che si possano definire tali, li fa la Juventus oggi, nella vittoria strameritatissima del Napoli, e questo vuol dire anche che il Napoli mentalmente è cresciuto, perché arriva la Juventus, comunque se la giocano, e se la giocano con intelligenza, quando venivate a dirmi, eh però sì che Mourinho, ma a parte vabbè, io critico a Mourinho di non sapere far gioco, anche quando affrontiamo il Genoa, anche quando affrontiamo il Bologna, anche quando affrontiamo l'Empoli, però oggettivamente, quando andiamo a Napoli, o giochiamo contro il Napoli, che Mourinho fa il catenaccio e la gente dice, eh vabbè però regà, ma che gusto c'è, fate schifo catenaccio, oggi la Juventus, il catenaccio non l'ha fatto, oggi la Juventus le sue occasioni se le ha ritagliate, le opportunità ce le ha avute, assolutamente sì, ne ricordo una, beh tra l'altro c'era, non so se, forse Rachmani sempre, o Mario, non mi ricordo se la stava buttato dentro da solo, è deviato un miracolo di Meret, che è migliorato ragazzi, oggi grandi parate in realtà da una parte e dall'altra, ma Meret è migliorato in un modo assurdo, ha fatto un upgrade, ha fatto un grow up clamoroso, fatto sta che vi stavo dicendo, la Juventus oggi gioca a viso aperto, e bravi coglioni, con tutto il rispetto, cioè avete visto che fino a fatto la Juventus è passata ad essere la migliore divisa della Serie A, è la seconda migliore d'Europa, ad essere una delle peggiori della Serie A, ma poco ci manca, cioè è stata impallinata, ha aperto la sacca dei palloni, gli hanno infilato dentro i palloni, e adesso che tornano, vanno lì, si contano, allora quanti l'hanno presi? 4, 5, 6, 7, 8, cioè regà è questo, è questo, questo Napoli quest'anno è una macchina, è una macchina perfetta, è una macchina, non so come possa non vincerlo Scudetto, cioè c'è un momento in cui all'inizio magari c'è chi dice, un po' di più di qua, un po' di più di là, questo Napoli ragazzi, le stanno non ha difetti, c'è nemmeno quello mentale, non c'è quello fisico, non c'è il calo, non c'è nulla, questo Napoli quest'anno non ha nessun difetto, e io sinceramente, ve lo dico chiaramente, da romanista, a parte che mi auguro lo vinciate voi, tanto io non lo vinco, mi auguro lo vinciate voi, che ve lo meritate, che sono anni che ci provate, e che non l'avete mai vinto, ma al di là di questo, al di là del fatto che mi auguro che lo vinciate voi, mi domando, quali difetti abbia questo Napoli? Nessuno, ve lo dico io, nessuno, mamma mia!